Il comune di Ponte Cagnano-Faiano ha avviato il pagamento dei debiti nei confronti del consorzio aeroporto. La prima tranche di 500 mila euro è stata liquidata nei giorni scorsi con apposita determina. Il debito in questione, pari ad 1 milione 389 mila euro, riguarda quote consortili non pagate ed è oggetto di una sentenza esecutiva del Tribunale di Monte Corvino-Rovella risalente al 2012. Tale sentenza è stata impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello dall'allora amministrazione SICA. Il ricorso però è stato accolto solo per la parte riguardante gli interessi, costringendo il comune a pagare comunque le quote pregresse non corrisposte.